Il giornalino di Gian Burrasca. Primo febbraio, seconda parte. La prigione è una stanzetta su per giù come quella dei lumi a petroglio, ma più alta della metà, e c'è una finestra alla superaria, con una barra di ferro che le dà proprio l'aspetto triste di una prigione. Fui serrato lì dentro a catenaccio, e vi rimasi solo con i miei pensieri, finché non venne a farmi visita la signora Geltrude, la quale mi fece una lunga predica sul pericolo dell'incendio che avrebbe potuto succedere se il fuoco del sigaro si fosse appiccicato al petroglio, e seguitò a declamare per un bel pezzo per finire poi, con voce patetica, a scongiurarmi di dire a lei la verità, assicurandomi che non era per dare delle punizioni ai colpevoli, ma per prendere delle precauzioni nell'interesse di tutti. Io naturalmente seguitai a dire che non sapevo niente, e che non avrei detto niente mai, anche se mi avessero tenuto in prigione per una settimana, che dopo tutto era meglio stare a pane e acqua che essere obbligati a mangiare la minestra di riso due volte al giorno. La direttrice se ne andò via tutta invelenita, dicendomi con voce drammatica, vuoi essere trattato con tutto il rigore? Tal sia di te! Rimasto solo da capo, mi sdraiai sul lettuccio che era in un canto della prigione, e non tardai ad addormentarmi, perché era già tardi, e io ero stanco da tante emozioni. La mattina dopo, cioè ieri mattina, mi svegliai di lietissimo umore. Il mio pensiero, considerando i miei casi, corse ai tempi delle cospirazioni, quando i patriotti italiani marcivano nelle prigioni piuttosto che dire i nomi dei congiurati ai tedeschi, e mi sentivo pieno d'allegria, e avrei voluto magari che la prigione fosse stata più stretta e magari anche umida e con qualche topo. Però, in mancanza di topo, c'era qualche ragno, e io mi misi in testa di ammaestrarne uno, come Silvio Pellico, e mi misi all'opera con tutto l'impegno, ma dovetti smettere. Non so se dipenda perché i ragni da allora fossero più intelligenti di quelli d'ora, o perché i ragni di collegio siano più zucconi degli altri, ma il fatto è che quel maledetto ragno faceva tutto il contrario di quel che gli dicevo di fare, e mi fece tanto arrabbiare che da ultimo lo schiacciai con un piede. Allora mi venne in mente che se avessi potuto chiamare dalla finestra qualche passerotto sarebbe stato molto più facile di ammaestrarlo, ma la finestra era così alta. Non so che cosa avrei dato per poter arrampicarmi su quella finestra, e a furia di pensarci mi era venuto come una frenesia, e non potevo più star fermo, né mi riusciva di levarmi dal cervello quell'idea. Cominciai dal trascinare il lettuccio sotto la finestra per diminuire la distanza, poi presi un pezzo di corda che avevo in tasca, levai la cinghia dei calzoni e l'aggiunsi a quella, ma con tutte e due si arrivava appena alla metà dell'altezza, cui era posta la finestra. Allora mi cavai la camicia, la strappai a strisce che attorcigliai ad uso fune e che aggiunsi alla corda che avevo già. Ne venne una corda assai lunga che lanciai mirando alla finestra. Ora ci arrivava, ma occorreva una lunghezza maggiore per farne ritornare giù la parte dopo averla fatta passare dalla sbarra, che era nel mezzo della finestra. Mi cavai anche le mutande, delle quali feci altre strisce che aggiunsi alle altre. Così ottenne una corda sufficiente a tentare la scalata che mi ero prefisso di dare alla finestra. Da un capo di essa attaccai una scarpa, e incominciai i miei esercizi di tiro a segno, lanciando con la destra la scarpa contro la barra di ferro e tenendo nella sinistra l'altro capo della corda. Quanti vanni tentativi! Non avevo orologio per calcolare quanto tempo occupassi in questo lavoro, ma potevo giudicare la durata dal sudore che mi bagnava tutto per la fatica. Finalmente mi riuscì di fare in modo che la scarpa lanciata al di sopra della sbarra girasse al di sotto, ritornando dentro la stanza. E dopo, pian piano, a forza di piccole e prudenti scosse date con la parte di corda che avevo in mano, mi riuscì di far calare giù dall'altro capo, tanto da arrivare ad acchiapparlo. Che felicità! Su quella doppia corda mi arrampicai su fino alla finestra, dove mi riuscì di accoccolarmi alla meglio, e salutai il cielo che mai mi era parso così limpido e così bello come in quel momento. Ma oltre alla bellezza del cielo che scorgevo al di sopra di me, mi commosse l'animo un grato odorino di soffritto che veniva dal di sotto. La finestrina, infatti, dava sul cortiletto della cucina, in un angolo del quale era un'enorme caldaia piena di acqua bollente. Allora mi ricordai che era venerdì, il giorno sacro alla famosa minestra di magro, che in mezzo a tutte le minestre di riso della settimana, veniva ad aglietare i nostri stomachi, e quella eccellente minestra di magro così saporita che pareva riunire in sé tutte le fracanze più care dell'umano palato. Mi sentivo venire l'acquolina in bocca, e una grande malinconia mi scendeva giù nella desolata solitudine delle mie povere budella. Fortunatamente questo atroce supplizio durò poco, perché ogni desiderio mi sparì come per incanto dallo stomaco appena scoprì la ricetta con la quale il cuoco del collegio faceva la sua ottima minestra di magro. Stando appollaiato sulla finestra avevo visto più volte andare a venire lo sguattero, un ragazzettaccio che da quel che capì era stato preso da poco perché sentivo il cuoco che gli diceva continuamente, fa così, fa cosà, piglia qui, piglia là, e gli insegnava tutto quello che aveva a fare, dove stavano gli utensili e come dovevano essere adoperati. Tutti i piatti sudici di ieri, gli domandò a un certo punto il cuoco, dove li hai messi? Lassù su quell'asse come mi diceste voi. Benone, ora rigovernali nella solita caldaia dove hai rigovernato ieri e ieri l'altro, che l'acqua calda deve essere al punto giusto, e poi risciacquali come le altre volte nell'acqua pulita. Lo sguattero portò tutti i piatti sudici nel cortiletto e a due a due li fece scivolare dentro il caldaione dell'acqua calda, poi si mise a tirarli su a uno per volta, sciacquattandoli e strisciandovi sopra con l'indice della destra steso per levarvi bene l'unto. Quando ebbe tirato sull'ultimo piatto, lo sguattero esclamò immergendo una mano nella caldaia. Che brodo, si taglia col coltello! Benone, disse il cuoco comparendo sull'uscio di cucina, gli è come deve essere la minestra di oggi. Lo sguattero sgranò tanto d'occhi, proprio come feci io, lassù sul mio osservatorio. Come? La minestra d'oggi? Sicuro, spiegò il cuoco accostandosi al caldaione. Questo è il brodo per la minestra di magro, alla casalinga del venerdì, che piace tanto a tutte queste carogne di ragazzi. Capirai, qui ci sono tutti i sapori. Sfido io, c'ero rigovernati i piatti di due giorni di seguito e prima che tu venissi c'erano stati rigovernati i piatti da altri due giorni. Insomma, per tua regola, in questa caldaia si comincia a rigovernare la domenica e si dura fino al giovedì, sempre nella medesima acqua. E capirai bene che quando si arriva al venerdì l'acqua non è più acqua, ma è un brodo da leccarsi i baffi. Vo direte bene, disse lo sguattero sputando, ma io i baffi non me li voglio leccare un accidente. Grullaccio, ribatte il cuoco. Ti pare egli che noi si mangi di questa roba? Il personale di cucina mangia la minestra speciale che si fa per il direttore e per la direttrice. Ah, fece lo sguattero tirando un gran respiro di sollievo. Orvia, portiamo la caldaia sul fuoco, che c'è già il panno è bello affettato, il soffritto è pronto e tu impara il mestiere, è mosca. Il personale di cucina, questo te l'ha spiegato, non devi mai far parola con nessuno al mondo di quel che si fa intorno ai fornelli, hai capito? E uno da una parte e uno dall'altra afferrarono la caldaia e l'alzarono di peso. Ma allo sguattero nel chinarsi cadde nella caldaia il berrettuccio tutto unto che aveva in testa. Ed egli fermato si detti in una grande risata e ritiratolo su strizzandovelo dentro esclamò. Guà, ora è anche più saporito di prima. A questo punto non ne potetti più dallo schifo e dall'ira e cavatomi la scarpa rimasta a me in piedi. La tirai giù con forza nella caldaia urlando. Porci, allora metteteci anche questa! Il cuoco e lo sguattero si voltarono in su come due spiritati e mi par di vedere anche ora quei quattro occhi dilatati, fissi su di mai in una comica espressione di meraviglia e di sgomento. Io intanto seguitavo a lanciar loro tutti i titoli che meritavano, finché essi, riavutisi finalmente dallo sbalordimento, si precipitarono dentro la cucina. Pochi minuti dopo la piccola porta della mia prigione si apriva e vi entrava di profilo, che altrimenti non ci sarebbe potuta passare, la signora Geltrude declamando. Ah, disgraziato! Uh, che vedo! A rischio di cadere giù e sfracellarsi! In nome di Dio, stoppanni! Che cosa fate? Costa su! E risposi, sto a prevedere preparare la minestra di magro alla casalinga. Ma che dici? Sei impazzito? In quel momento entrò a un bidello con una scala. Appoggiatela lì e fate scendere quello sciagurato, impose con aria drammatica la signora Geltrude. No, non scendo, rispose aggrappandomi alla sbarra di ferro. Se devo rimanere in prigione voglio starmene qua su, perché c'è più aria. E poi si impara come si cucinano i ragazzi in collegio. Scendi via! Non capisci che ero venuta a punto per farti uscire dalla prigione? Purché si intende tu promette di essere buono e obbediente, che se no figliuolo mio è un affar serio. Io guardai la direttrice sorpreso. Perché questa improvvisa liberazione? Pensavo fra me. Eppure non ho rivelato i nomi dei ragazzi che fumavano nello stanzino del petrolio. Dunque? Ah, ho capito. Oran cerca di pigliarmi per le buone maniere perché non racconti ai miei compagni la scoperta della ricetta per la zuppa di magro alla casalinga. In ogni modo non c'era più ragione di rimanere appollaiato sulla finestra e discesi. Appena ebbi toccato terra la signora Geltrude ordinò al bidello di rimportarvi alla scala e poi, presomi per un braccio, mi disse con tono imperioso. Di su che volevi dire della minestra di magro che si fa in collegio? Volevo dire che io non intendo di mangiarla più mai. Guardi, mi assoggetto piuttosto a mangiare quella di riso anche il venerdì, a meno che non mi dia la minestra speciale che fanno per lei e per il signor direttore. Ma che dici? Io non ti intendo. Dimmi tutta la verità, tutta, capisci? Allora le raccontai semplicemente tutto quello che avevo visto e sentito dalla finestra della mia prigione e, con mia grande sorpresa, la signora Geltrude, molto impressionata del mio racconto, esclamò. La cosa che dici, ragazzo mio, è molto seria, bada bene. Si tratta di far perdere il pane a due persone, al cuoco e allo sguattero. Pensaci, hai detto proprio la verità? L'ho detta e la sostengo. Allora vieni a far rapporto al signor direttore. Difatti mi condusse nell'ufficio di direzione, dove dietro a una scrivania piena di libri stava il signor Stanislao. Lo stoppani, gli disse la signora Geltrude, ha un rapporto molto grave da fare contro il personale di cucina. Via, racconta! E io raccontai da capo la scena alla quale avevo assistito. Passavo di sorpresa in sorpresa. Anche il direttore mi apparve indignato del racconto fatto. Chiamò il bidello e ordinò, fate venire qui il cuoco e lo sguattero, march! Poco dopo, eccoli tutte e due e io da capo a ripetere il racconto per la terza volta. Ma la mia meraviglia giunse al colmo, quando, invece di rimanere confusi, come io mi aspettavo, sotto il peso delle mie rivelazioni, essi dettero una grande risata. E il cuoco, presa la parola, disse indirizzandosi al signor Stanislao, «La mi scusi, signor direttore, ma le par possibile che si faccia tutto questo? Deve sapere che io ho per abitudine di far sempre la burletta, e ora, specialmente che ho per le mani questo sguattero, che è nuovo del mestiere, mi diverto un mondo ad agliene ad intendere delle cotte e delle crude. Quello che ha raccontato il signorino è sacrosantamente vero, soltanto, come le ho detto, si trattava di parole dette per il scherzo». «Va bene», disse il direttore, «ma il mio dovere è di imporre e di procedere immediatamente un'ispezione in cucina, pregetetemi, marsch! E voi, stoppani, attendetemi qui», e uscì impettito con passo militare. Quando ritornò poco dopo, mi disse sorridendo, «tu hai fatto bene a riferirmi quel che hai visto, ma fortunatamente la cosa sta come aveva raccontato il nostro cuoco, e puoi mangiare tranquillo la tua brava scodella di minestra alla casalinga, cerca di essere buono, va!» e mi dette un colpetto di mano su una guancia. Io me ne andai tutto contento e persuaso in mezzo ai miei compagni che giusto in quel momento uscivano di classe. Poco dopo andammo tutti a pranzo, e il barozzo, che come dissi già è di posto accanto a me, mi strinse forte la mano sotto la tovaglia e mi disse sottovoce, «Bravo, stoppani, sei stato forte, grazie!». Quando venne in tavola la minestra di magro alla casalinga, il mio primo movimento fu di repulsione, ma le parole del cuoco mi avevano persuaso, e poi avevo molta fame, e poi, appena assaggiata, dovetti riconoscere che quella minestra era proprio buona, e mi pareva impossibile che una cosa tanto prelibata potesse essere preparata in un modo così ripugnante. Avrei voluto raccontare al barozzo tutta la scena che si era svolta nel cortiletto della cucina e poi nell'ufficio di direzione, ma la signora Geltrude, che quando si mangia e tira sempre intorno alla tavola, non mi levava gli occhi di dosso, e mi accorsi che mi vigilava in modo speciale, proprio per vedere se mangiavo la minestra e se raccontavo l'avventura della mattinata ai miei compagni di tavola. Anche dopo, durante l'ora di ricreazione, la signora Geltrude continuò la sua sorveglianza speciale, la quale non impedì che il Pezzil del Ponte e il Michelozzi mi facessero una gran festa, dichiarandomi che benché io sia piccino, dopo quel fatto di aver sostenuto la prigione piuttosto che farla spia, mi consideravano un amico grande, come loro, e mi avrebbero ammesso nella loro società segreta che si chiama Uno per tutti e tutti per uno. La sorveglianza speciale è durata fino a ieri sera, ma a cena mi parve che il mio contegno avesse finalmente persuaso la direttrice che mi ero dimenticato di quel che avevo visto la mattina. Così potei narrare tutto per file e per segno al barozzo, il quale prese la cosa molto sul serio e dopo aver pensato un po' disse Vorrei sbagliare, ma per me l'interrogatorio del cuoco e dello sguattero è tutta una commedia. Come? Sicuro. Prendiamo a considerare la faccenda dal momento in cui il cuoco, accortosi che tu avevi assistito alla preparazione della minestra di magro alla casalinga, è corso ad avvertire il direttore o la direttrice. Qual era il consiglio che dovevano seguire nel loro interesse? Quello di rabbonirti e di cancellare dalla tua mente lo spettacolo che avevi visto. Essi dunque hanno detto al cuoco e allo sguattero, quando sarete chiamati dite che è stata una burletta. Ed ecco che la direttrice viene ad aprirti la prigione, finge di scandalizzarsi al tuo racconto e ti conduce dal direttore, il quale finge di fare un tremendo processo al cuoco e allo sguattero, i quali fingono di aver scherzato. E tu, persuaso di tutto questo, mangi e gusti, come al solito, la tua brava minestra di magro alla casalinga. E tutto sarebbe andato bene per loro se tu non avessi raccontato la cosa al tuo amico Barozzo, che ha più esperienza di te e che riferirà la cosa alla società. Per questa faccenda, in tempo di ricreazione, faremo un'adunanza e decideremo, non mi par vero che arrivi quell'ora. Ma è già suonata la sveglia e bisogna che mi affretti a nasconderti, giornalino mio. L'adunanza della società segreta, tutti per uno, uno per tutti è andata benissimo. Ci siamo riuniti tutti in un angolo del cortile. Questo disegno che ho fatto qui stasera, prima di addormentarmi, rappresenta il momento più solenne della discussione, con Tito Barozzo, che presiedeva alla mia sinistra, e accanto a lui Mario Michelozzi, alla mia destra Carlo Pezzi, e tra questi è il Michelozzi, Maurizio del Ponte. Prima di tutto c'è stato un voto di plauso per me, perché quel giorno in cui i soci si erano riuniti a fumare nello stanzino del petrolio, piuttosto che far la spia, mi ero fatto condannare in prigione. Poi un altro voto di plauso per aver scoperto l'affare della minestra di Magro. Insomma, sono stato trattato come un eroe e tutti mi hanno dimostrato una grande ammirazione. Dopo aver discusso ben bene, ci siamo trovati d'accordo su questo punto, che per accertarsi se la minestra del venerdì è fatta con la rigovernatura dei piatti serviti ai pasti degli altri giorni, bisogna, incominciando da domani, dopo mangiato, mettere nel piatto qualche cosa che dia un colore all'acqua, nella quale i piatti saranno rigovernati. Ci vorrebbe dell'anilina, ha detto il del ponte. Ci penso io a procurarla, ha aggiunto Carlo Pezzi. Ne ho viste nel gabinetto di chimica. Benissimo, domani allora principieremo la prova. E ci siamo separati dandoci la mano. Quello che la stendeva diceva, tutti per uno, e l'altro, stringendo la mano, rispondeva, uno per tutti. Sono molto contento di essere entrato in questa società, ma ero incerto, caro giornalino mio, di scriverne nelle tue pagine, avendo giurato di non confidare il segreto a nessuno. Però ho pensato che a te potevo confidare tutto, perché mi sei fedele, e poi io ti custodisco bene, chiuso a chiave, nella mia valigetta. A proposito, la mia valigia è riposta con la mia biancheria in un piccolo armadietto scavato nel vano della parete a capo del letto, al di sopra del comodino. Tutti con le gialli hanno un armadietto simile, chiuso da uno sportello bigio. L'altra sera, dunque, mentre gli altri dormivano, per riporre nella valigia il giornalino, mi ficcai addirittura dentro il mio armadino e sentì delle voci. Rimasi in ascolto, pieno di curiosità. Non mi ero sbagliato, le voci erano al di là del muro in fondo all'armadietto, e mi parve persino di riconoscere la voce della signora Geltrude. Deve essere una parete sottilissima.